Musica Proseguono i scavi archeologici al parco del Colle del Pionta, arrivano le prime conferme per quanto riguarda il Duomo Antico di Arezzo ed intanto è stata scoperta proprio a ridosso della cripta una tomba contenenti i resti di due gemellini. Queste novità non le ho interpretate io ma le ho interpretate tra le università di Southampton, quella di Torvergata e del DDA di Firenze. Abbiamo trovato il muro del Duomo Vecchio che già ci permette di vedere che è poligonale, lo spessore del muro sono 5 metri quindi dobbiamo sostenere una costruzione maestosa. Altro dato importante sulla ricerca di queste che sono state fatte sono gli ingressi alla cripta, quindi la cripta si può datare veramente paleocristiana come alcuni storici già avevano intuito. L'obiettivo mio era quello di trovare il Duomo Vecchio, il Duomo Vecchio sulla base delle risultanze effettuate da queste tre università è qui. E' stata inoltre trovata una tomba infantile risalenta prima dell'anno 1000 con i resti di due nonati a ridosso di quello che con ogni probabilità sembra essere il Duomo Vecchio. Due gemelli nella solita tomba e una moneta del V-VI secolo, proprio adiacente alla cripta, anzi diciamo che metà tomba è incorporata proprio nella parete della cripta perché a quell'epoca le persone tenevano a essere sepolti vicino a un santo, per cui questo è anche un indizio che conferma l'ipotesi che nella cripta ci sia stato il sepolcro di San Donato.